Terzo posto per Catania, top transazioni, il dottor Mario Gangemi, un onore averti qui, come ci sentiamo? Contento e soddisfatto. Questo 2024 come sarà? Spero migliore rispetto al 2023, ma se non lo è lo rendiamo migliore. Non ho dubbi anche perché è andato benissimo questa. Voglio dire, quindi, va comunque ok. Meraviglioso. Non 2024 allora. Da Mario Gangemi è tutto, grazie.